Attenzione e buongiorno, questo è un annuncio di massima importanza. Ieri hanno rapito un bambino mentre andava a scuola. Era lo scorso febbraio quando questo messaggio audio si diffuse nelle chat whatsapp degli aretini destando un grande allarme. Raccontava di un bambino avvicinato da un uomo e portato via. Mi raccomando la massima attenzione, divulgate il più possibile questa notizia. Adesso, a distanza di mesi, la polizia di Stato ha arrestato un presunto pedofilo, un 37enne straniero accusato di violenza sessuale e aggravata commessa nei confronti di due minori. Gli episodi risalgono la mattina del 9 febbraio 2024. L'uomo prima avrebbe baciato sulla guancia un bambino di 10 anni, poi avrebbe sottratto un altro piccolo di 6 anni alla madre e dopo averlo portato in un luogo appartato lo avrebbe molestato. Quel giorno alla sala operativa della questura arrivarono due segnalazioni distinte, ma quando la polizia arrivò sul posto, l'uomo si era già dileguato. Da lì le indagini che hanno rilevato come il 37enne avesse l'uso la sorveglianza dei genitori dei bambini per molestarli. Acquisite le testimonianze dei genitori dei piccoli, è stato ricostruito grazie ai filmati ripresi dagli impianti di video sorveglianza il percorso fatto dal 37enne. L'osservazione in borghese nei pressi dell'istituto scolastico cittadino interessato e di altre scuole ha poi fatto il resto, consentendo di risalire l'identità del presunto pedofilo. Per lui si sono aperte le porte della casa circondariale di Sollicciano, a suo carico gravi indizi di colpevolezza acquisiti. L'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa anche in considerazione del pericolo di reiterazione del reato.